Questa volta le forze dell'ordine sono arrivate appena in tempo ed il merito è tutto di alcuni residenti che con le loro segnalazioni sono riusciti ad evitare una nuova intrusione. È stata scongiurata da polizia locale e carabinieri l'ennesima occupazione abusiva della casa natale di Giovanni Bovio nel centro storico di Trani. La tentata e incursione è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 15, quando in base alla ricostruzione fatta dagli stessi militari, un uomo avrebbe cercato di entrare nello storico stabile di via Mario Pagano con tutta la sua famiglia, composta anche da minorenni, dopo aver in parte già sfondato la moratura del portone. Ma il tentativo, come detto questa volta, è andato a vuoto. Alcuni residenti, assieme ad un consigliere comunale, hanno informato la polizia locale di quanto stava accadendo. Così il tempestivo intervento di agenti e militari si è rivelato efficace. Il nucleo familiare è stato immediatamente allontanato. Si tratterebbe di persone note alle forze dell'ordine proprio per aver già occupato in passato altri immobili comunali. In seguito si è anche provveduto a riparare la moratura danneggiata. Abitato per circa due anni da inquilini abusivi, lo stabile è tornato nella piena disponibilità del comune dal marzo scorso. Gli stessi inquilini hanno poi occupato un'altra struttura pubblica, l'ex casa del custode della scuola media Giovanni Bovio.